Ora le famiglie saranno più impegnate se hanno i figli in età scolare. La ministra Fedeli, quella della pubblica istruzione, dopo una sentenza della Cassazione relativa a un processo per la morte di un bambino travolto da un'auto al termine delle lezioni, ha dato precise disposizioni. I genitori o un loro delegato devono andare a prendere a scuola i loro figli. Un'iniziativa in un certo senso lodevole di fronte ai tanti rischi, ma è in dubbio il disagio per mamma e papà che lavorano o che, se in famiglia non c'è nonni, dovranno fare i salti mortali. Ragazzi e bambini accompagnati fino al termine della terza media, c'è tutto un percorso scolastico fino all'adolescenza. Le critiche nei confronti della ministra non si contano più. La gente reagisce male e vorrebbe evitare che dalla responsabile delle istruzioni arrivino diktat così precisi. Ma siamo così certi che i bambini e i ragazzini ritirati a scuola dai genitori siano poi così tanto al sicuro? Ieri alla Spezia una mamma, dopo aver prelevato all'uscita della scuola il proprio bimbo di otto anni, lo ha, forse per una distrazione o per qualche chiacchiera in più con le altre mamme, perso di vista. Così sono intervenuti i carabinieri che poco dopo lo hanno fortunatamente ritracciato mentre con cartella in spalla faceva ritorno a casa. Una storia come tanti che ci fa però riflettere e dire non servono leggi bacchettone ma più diligenza da parte di insegnante, bidelli e genitori.